Buongiorno e ben ritrovati e buon venerdì a tutti quanti. Voglio cominciare ringraziando tutti gli amici che si sono iscritti al secondo canale che ho lanciato ieri perché tra pochi giorni festeggerò il mio secondo compleanno qui su YouTube. Allora ho deciso di non tanto aprire un nuovo canale quanto separare un po' gli argomenti quindi questo che è il canale principale naturalmente resta il punto di riferimento dove però parleremo del Milan e delle cose di Milan e invece nel nuovo canale parleremo di calcio in generale, di tutte le altre squadre, di tutti gli altri argomenti e anche poi pubblicherò le varie rubriche e le cosette che andremo a scoprire nelle prossime settimane. I prossimi mesi fino, diciamo, da qui a un anno fino alla Coppa del Mondo. Quindi grazie a tutti quelli che si sono iscritti e agli altri se vi fa piacere lascio in descrizione il link al canale. Detto questo, detto questo, 1955, vediamo se il Milan lascia o raddoppia. Perché dico questo? Perché il 1955 è un anno dove sono successe tante cose, ma insomma in tutti gli anni sono successe tante cose e ultimamente lo sappiamo bene. Ma è l'anno della prima puntata, tra l'altro la novembre, del quiz televisivo forse più famoso di tutti i tempi della storia italiana, ovvero appunto lascia in raddoppia. Il Milan domenica gioca a Roma per raddoppiare e quindi per continuare la corsa verso il titolo in questo campionato che ieri ha visto Napoli vincere facilmente sul Bologna. Il Milan è un campionato dove sembra davvero che ci sia una grande separazione tra i livelli delle varie squadre, cioè ci sia veramente marcata la differenza tra le varie squadre, tra le squadre importanti e le squadre minori, ad eccezione ovviamente di alcune squadre in difficoltà come la Juventus che possono scivolare un po' dappertutto, ma diciamo le squadre organizzate per vincere o comunque quelle che possono stare nei primi posti della classifica cominciano a non perdere un certo tipo di partite. Pensiamo alla Roma-Cagliari solo per l'ultimo turno, l'Inter ad Empoli, pensiamo all'Atalanta con la Sampdoria, a noi col Torino, a Napoli col Bologna, quindi tutte queste situazioni che andranno monitorate e in questo senso se il trend dovesse confermarsi è chiaro che gli scontri diretti e le partite tra le prime della classe diventano molto molto importanti. E allora 1955 perché? Perché sapete che io amo le statistiche o per meglio dire amo le ricorrenze perché sono una persona che ritiene che la storia sia ciclica e quindi quando leggo di un qualcosa che è accaduto e che sembra che stia per accadere di nuovo, che sembra che accada, ci credo perché ritengo, ripeto che la storia dell'uomo con contorni diversi, sfumature diverse, sembianze diverse, ma più o meno si ripeta nelle sue dinamiche perché sappiamo che l'uomo, a differenza della bestia, dovrebbe imparare dei propri errori ma generalmente non lo fa e quindi lì ci ricasca. Quello che non dobbiamo fare noi è questa cosa qua, cadere nell'errore di pensare che un altro 55 non ci possa essere. Cosa è accaduto nel 55? Nel 55 è accaduto che dopo dieci giornate avevamo vinto nove partite, avevamo un centroavanti svedese in panchina, avevamo una nuova proprietà e all'undicesima giornata andammo a Roma e perdemmo quella partita. Quindi questa cosa qui è piuttosto singolare perché ripercorre, ripercorre, anzi noi abbiamo in quest'anno ripercorso quel cammino, abbiamo in percorso quella traiettoria di quel Milan che poi però alla fine dell'anno comunque vinse lo Scudetto. Per cui diciamo che probabilmente in molti di noi baratterebbero una sconfitta domenica con la vittoria dello Scudetto, però non è detto. Io ho letto un po' di pessimismo, cari amici del canale, riguardo alla partita di domenica. E' vero che ci arriviamo un po' stanchi, è vero che ci arriviamo provati dopo tutta questa serie di partite difficili, complicate anche dal punto di vista psicologico, però dal punto di vista mentale più che psicologico. Però sappiamo anche che questa squadra ha dimostrato di avere quest'anno veramente tantissime risorse, che chiaramente non sono infinite, non possono esserlo, però tante risorse, tante soluzioni, soluzioni, tanta crescita anche dal punto di vista di approccio alla partita, di gestione della partita, di conduzione della partita, di capire i momenti della partita e quindi, come è accaduto ad esempio martedì, adattarsi anche a situazioni dove tu non devi essere per forza predominante, dove tu non devi essere per forza al 90% di possesso palla e 50 tiri in porta, perché c'è un avversario, perché c'è il tuo momento, perché ci sono le tue assenze, quindi ci sono tante cose che ti obbligano a crescere e ti obbligano in questo processo di maturazione a capire come gestirti e come gestire le fasi della partita. Come diceva Giovanni ancora una volta, rimando a un suo concetto nel corso della live, diceva chi non si sa gestire è stupido, perché non puoi pensare di giocare tutto l'anno alla stessa velocità, per questo c'è una preparazione fatta in un certo modo, che magari qualcuno anche contesterà, però io sinceramente non vedo una squadra sulle gambe, non vedo una squadra sfinita, vedo una squadra dove ci sono tanti interpreti che giocano sempre, che giocano tutte le partite, che devono giocare tutte le partite, ed è chiaro che quando giochi ogni tre giorni partite ad alta intensità, sotto tutti i punti di vista, il tuo rendimento non può essere sempre elevato, anche da un punto di vista dinamico, da un punto di vista fisico. Poi però penso a Leao, che è uno di quei giocatori ai quali si è rivolto Pioli dicendo che ha dovuto farlo giocare sempre, che quindi è un po' stanco, però io martedì gli ho visto fare una partita di grande sacrificio, molto più che a Bologna ad esempio, molto più che a Bologna, quindi è normale che adesso le cose vadano così. Ora abbiamo avuto mercoledì, giovedì, venerdì e sabato domani, quindi sono quattro giorni, tra l'altro mercoledì hanno avuto anche il giorno di riposo, per fortuna, quattro giorni, adesso recupereremo, ha giocato comunque anche la Roma spesso, perché non è che siamo solo noi, perché la Roma comunque gioca la Conference League, quindi anche loro giocano addirittura il giovedì e poi la domenica. Per cui io non sono pessimista. È chiaro, è una partita difficile sicuramente, la Roma è un avversario da rispettare e non è in crisi, ripeto, non è in crisi. Murigno è un allenatore che per quanto adesso possa essere contestato, perché da molti considerato fine carriera eccetera, è comunque un allenatore di esperienza, che sa anche gestire la teatralità di certi momenti, sa gestire il gruppo fin tanto che riesce a tenerlo diciamo in pugno e quindi anche tutta la questione dei giocatori epurati, poi riammessi eccetera, potrebbe far parte diciamo del teatro Murigno, che però tante volte nel corso della sua carriera ha portato dei frutti importanti. Quindi mentre vedete il sole alle mie spalle che sorge e io voglio anche così portarvelo in un certo senso idealmente per darvi un po' di fiducia e un po' di spirito visto che domenica giochiamo comunque una bella partita, visto che ci aspetta una settimana molto intensa, molto complicata, ma allo stesso tempo affascinante perché Roma, Porto e Inter sono tre partite imperdibili. Però arriviamoci col giusto piglio. Io sarei per raddoppiare piuttosto che per lasciare, aspetto i vostri commenti e vi auguro una buona giornata.